chissà talino era partito alle sette una voce mi dice di no e mi fa saltar su vado o non vado costa poco talino era seduto per terra fra le ringhiere dei biglietti col fagotto e tutto a vederlo mi pareva di tornar dentro si asciugava il sudore con una faccia da richiamato e mordeva in un pezzo di pane e formaggio dunque aveva dei soldi cuciti da qualche parte e ci aveva presi in mezzo tutti quanti me la questura e le carceri quando mi vide si alzò senza fretta poggiando la mano per terra e cominciò a traballare come faceva lui camminando si parte mi dice con la bocca piena momento tu hai dei soldi che pagami date se vi guardo le macchine da mangiare e da dormire puoi lavorare per tuo conto nella fabbrica della luce e guadagni quello che vuoi c'è uno che si è comprato una casa ma per partire aspettammo il mattino perché monticello è un paese di scarto che di notte non passano i treni aspettando pensavo che se avesse attaccata la giacca sopra quella di pieretto sarebbe subito finito il discorso che a guardarci nello specchio sembravamo fatti l'uno per l'altro e che lei mi aveva sempre voluto e invece avrebbe detto che non valevamo né lei né io l'amico che prendevamo in giro e mi avrebbe tormentato e messo su contro pieretto meglio che si svegliasse sola e facesse un po di magro come faceva pieretto una volta sul treno venne subito giorno e partimmo proprio nel momento scommetto che michela si dirava sotto il lenzuolo talino si era messo a dormire con la testa sul fagotto e il fazzoletto per traverso e mi strizzava l'occhio come se ridesse ancora per me la fatta mancavano solo le mosche e poi c'era la stalla l'odore di stalla e il vitello lui sembrava il vitello ma dei momenti pensavo che ce ne fossero due una bella cosa era il fresco e che viaggiavamo soli e mi sfogavo a fumare a bandito saliva gente ma erano di campagna e andavano al mercato di bra talino se li guardava con tutti due gli occhi e quando fanno per attaccare discorso con me dico parlate con lui a bra scendiamo per cambiare e c'era da aspettare quasi un'ora non vorrei mica sederti nel giardino vi faccio sono stufo di giardini ma talino tira fuori tre lire e mi dice che erano le mie cinque che a torino non aveva trovato il fatto suo e che sapeva un posto a bra dove bastava due e cinquanta possibile dico sarà robetta di campagna ma che dice talino sono bianche che è un piacere ma io mi fermai nel caffè sulla piazza ringrazia che non mi faccio dare indietro questi soldi e fa presto in un caffè pare di essere ancora a torino per questo mi piace adesso capivo perché talino aveva fatto finta di dormire prima nella sala e poi sul treno per non dovermi raccontare come era andata con madama angela a meno che con la storia che era di campagna non l'avesse fatta anche a loro michela che rideva sotto i baffi quando gliel'avevo raccontata era una donna e la sapeva va più lunga ecco dico a una bionda al banco c'è un posto tranquillo per aspettare un amico che è andato a far l'amore dietro il banco c'era una porta e di là un giovanotto che sembrava un ragioniere le guardava le gambe si può andare a mettersi lì le faccio intanto si sente una botta rinterzata non avevo pensato di chiedere a talino se a monticello c'era il biliardo devo prendere il treno o giocare al biliardo o discorrere con una bella ragazza le dico si può fare l'uno e l'altro mi risponde la bionda e mi guarda ridendo se prendo il treno perdo il resto di biliardi ce n'è dappertutto ma non di bionde vado in un paese dove le donne zappano l'orto vado in un paese dove le donne zappano l'orto l'amico che guardava la sotto comincia a ridere per conto suo allora dico alla ragazza qui le gambe fanno ridere lei non aveva ancora capita che già con l'altro ci guardavamo combinammo una sfida al biliardo e ci giocai tutto quello che avevo la ragazza guardò un momento dalla porta poi la chiamarono a servire e finimmo la partita che lei neanche assisteva sempre ridendo sotto i baffi quel giovanotto che sembrava un ragioniere mi suonò le prime due poi mi diede la buona e mi fece anche quella poi chiedo l'ora e sento che il treno è già partito talino aspettava pacifico nella stazione e adesso dovevi venire con me ti divertivi un treno dopo partiva alle 4 c'era da fare il mezzogiorno in quella piazza come i buoi sul mercato e faceva un caldo che ammazzava anche le mosche l'unico posto che sapevo non potevo più tornarsi e talino mi dice andiamo a fare un giro talino mi portò sul mercato che era disteso davanti ai portici e lui camminava al sole per vedere la merce io senza fagotto perché l'avevo lasciato alla stazione mi tenevo al riparo e fatti i conti di nascosto trovai che avevo ancora da fumare per due giorni che bei peperoni rossi vendevano le donne poi arriviamo davanti alle angurie e mi viene sete gridavano specialmente le donne che pareva un mercato rionale guardali bene berto dico senza fermarmi è in mano a questa gente che ormai ti sei messo dai portici guardare il mercato sembrava di vedere una spiaggia c'erano i bianchi delle camicie delle maglie dei berretti che facevano sudare solo a passargli davanti perché in campagna è tutto uno spasso dalla pelle dei piedi al fustagno dei calzoni e talino andava deciso scontrandosi nella gente allargando le gambe perché ci passassero i cani senza neanche asciugarsi il collo con quel fazzoletto rosso che gli faceva triangolo sulla spalla si fermò davanti a uno dalla fascia rossa alla vita come un carrettiere che vendeva ferri davanghe e picconi questo salta in piedi e si mette a picchiare con un martello sulla pala di un badile e chiama qualcuno e arriva un ragazzo e lui allora da un pugno in fianco a talino sembrava sveglio il carrettiere e si capisce con la vita che fanno anche se girano soltanto la campagna mangiano tutte le minestre e vedono la gente di giorno e di notte se invece di talino mi fosse rimasto pieretto quello era un mestiere da fare noi altri si portò me e talino all'osteria là dietro gli dove comandava con l'occhio i suoi ferri e il ragazzotto che glieli guardava sulla porta si fermano e talino gli dice che andavamo a casa lascia fare disse l'altro per la madonna d'agosto arrivate sicuro bevi una volta entriamo dentro e comanda del vino prima cosa gli chiede se l'avevano prosciolto gli da una mano sulla spalla e gli dice che stesse tranquillo perché quelli del prato pensavano a tagliare il fieno e quando c'era andato il maresciallo per concludere e fissare i testimoni gli avevano risposto che non era più la stagione qui il carrettiere mi guardò di traverso io guardo lui gli rido in faccia e tiro fuori il pacchetto sono le ultime andate avanti sto con talino talino dice viene a casa nostra per lavorare l'altro si mette a ridere piglia la sigaretta e ci versa da bere poi continuano un pezzo a parlare del loro incendio e io li guardo bilanciandomi sulla sedia mi chiedevo che razza di lavoro andassi a fare a casa sua e l'incendio ce l'avevo io nella testa di tanto in tanto all'occasione dicevo la mia perché l'avevo già spiegato a talino che se uno l'hanno visto lavorare in un pozzo a fondo valle è un po difficile accusarlo di un incendio su in collina ma quel berto si chiamava come me che quei paesi li aveva girati e si maneggiava talino da buon maniscalco tirava ficcaggi in testa che adesso stesse tranquillo visto che era prosciolto perché in un pozzo di notte non si vede neanche la luna nonché la faccia di talino perché è stato di notte dico io sicuro questo goffo per farsi vedere di notte va a nascondersi nel pozzo allora mi accorsi che neanche un momento talino aveva smesso di lavorarmi grazie